A chi è rivolto questo servizio? Il nuovo punto di ascolto del telefono arcobaleno è stato promosso dall'Arcidie Basilicata e sarà attivo tutti i mercoledì dalle 16 alle ore 20. Vogliamo ricordare qual è il numero a cui chiamare? Il numero da potersi contattare è il 334 23 53 493 dove, ripeto, tutti i mercoledì dalle 17 alle 20 risponderà la dottoressa Chiara Sassano psicologa di professione nonché dell'Arcidie Basilicata. Questa linea di ascolto nasce non soltanto solo per gay, lesbiche, bisessuali e trans ma per tutta la cittadinanza che abbia necessità di informazione e supporto sulle tematiche LGBT. Cosa si può chiedere agli operatori? La linea telefonica di ascolto nasce come strumento di contrasto all'omofobia e offre gratuitamente una consulenza psicologica come ho detto prima non soltanto alle persone gay, lesbiche, trans e bisessuali. L'importanza di questa informazione è mirata al rispetto e alla valorizzazione di tutte le diversità e quindi sentiamo la necessità di aprire un confronto con la cittadinanza. Ultimamente si parla spesso di teoria gender. Per voi c'è molta disinformazione e da riguardo sabato manifesterete in piazza? Sì manifesteremo in piazza però adesso non mi voglio pronunciare perché è una cosa che poi la vedremo direttamente il 24 ottobre in piazza Prefettura.